Per lo speciale sicurezza di Impresa City siamo in compagnia di Stefano Sali, esperto di sicurezza di CA Technologies. La prima domanda è di ordine generale. In quale modo è cambiata la gestione degli accessi e dell'identità digitale in un mercato sempre più caratterizzato e influenzato da fenomeni quali cloud e mobile, che spesso costituiscono un unico tecnologico di quella che è la trasformazione digitale? La gestione delle identità digitali come problematica rimane simile a quella degli ambienti on premise o tradizionali, quindi la gestione del ciclo di vita dell'identità e degli accessi. Ovviamente con il nuovo trend del cloud, il numero di utenti, di persone che devono accedere, di cui bisogna mantenere l'utenza, aumentano. Non si parla più solo di migliaia o decine di migliaia, si parla di milioni tendenzialmente. Quindi diventa ancora più importante mantenere il ciclo di vita degli utenti, mantenere un livello di accesso accettabile per il contesto, quindi essere sufficientemente sicuri che l'utente, che la persona che sta cercando di accedere a quel servizio sia effettivamente quello che dice di essere. Quindi il livello di autenticazione, il metodo di autenticazione che questa persona deve utilizzare, deve essere sufficientemente sicuro per quel contesto, per quella situazione in cui si va a trovare. È sufficientemente semplice da utilizzare. Ormai siamo in un'era in cui deve essere tutto molto più facile, in termini di utilizzo. Bisogna dare la possibilità agli utenti di scegliere un metodo preferenziale per quel momento, che sia comunque sufficientemente sicuro ad autenticare l'utente. Questo ovviamente non è un tipo di autenticazione che va bene per qualsiasi attività, ma è sufficiente per far entrare l'utente, fargli accedere a una certa area di informazioni e se queste saranno di suo gradimento potrà fare quello che si chiama una step-up authentication e diventare un utente più trusted, che potrà entrare ad accedere a cose più importanti. Sempre sulla scia dell'autenticazione semplice si può anche abilitare il nuovo business, cioè dare la possibilità agli utenti di autenticarsi in molteplici modi, anche molto semplici, permette di far arrivare nuove utenze, di far partecipare nuove persone a quello che è il nostro sito, a quello che è il nostro servizio. Per riguardo, diciamo, andiamo ad analizzare un po' le due componenti. Prima di tutto la parte mobile. Si può accedere alle informazioni e ai dati da una molteplicità di device. Questo cosa implica nel poter offrire un accesso sicuro ai propri dati e alle proprie informazioni? I device mobili sono sicuramente un'onda importante. Hanno cambiato il modo di sfruttare l'informatica, il modo di accedere ai dati e hanno portato delle tematiche di sicurezza diverse. Il primo tema è quello della semplicità di utilizzo. Gli utenti sono abituati a una semplicità importante di utilizzo, devono accedere con pochi click, quindi bisogna dare alle persone dei metodi di autenticazione semplici da utilizzare ma sicuri al contempo. L'altro punto importante è abilitare non soltanto i device aziendali coperti da MDM, ma anche i device degli utenti a 360 gradi. Io ne ho tre, quattro di device. Chiunque ha più device, quindi garantire un'esperienza, un utilizzo, un accesso ai dati attraverso più device mobili. Ovviamente l'esperienza d'uso delle singole applicazioni dipende dalla tecnologia che si utilizza per fare queste applicazioni. Si possono fare dei wrapping delle applicazioni web già esistenti, ma l'esperienza non è la migliore possibile, o usare delle app native, che sfruttano delle api di fondo. Questo tema delle api, quindi rendere i servizi interni disponibili come delle API, è importante ed è qualcosa su cui si sta lavorando molto. Cioè la consumerization dei servizi su più device. Andiamo a vedere l'altro fronte, che è quello del cloud. A Cia Technologies si è impegnata molto in questi ultimi anni nel cercare di mettere a punto un'offerta adeguata e coerente con questo ambiente, l'ambiente dell'IT as a service. Nello specifico, ecco, cosa possiamo dire riguardo proprio alla gestione dell'accesso di identità digitale in ambiente cloud? Cia Technologies offre tutto quello che è la sua suite di prodotti di sicurezza anche sul lato cloud. Quindi abbiamo una piattaforma che si chiama Secure Cloud che fornisce la gestione del ciclo di vita delle utenze, il controllo accessi, il federate single sign on e quello che si chiama Advanced Authentication da cloud. In aggiunta c'è anche la parte di social login, quindi si può fare login utilizzando dei social network. Ecco, quali sono i settori di industry su cui vi state focalizzando con l'offerta di gestione degli accessi dell'identità ed eventualmente se ci sono delle estensioni previste a quelli che sono stati i vostri abituali mercati di riferimento? Sì, il nostro mercato storico riguarda le aziende di finance, quindi banche, assicurazioni, eccetera, e telecomunicazioni e pubbliche amministrazioni. È ancora il core del nostro business, ma le ultime recenti acquisizioni, soprattutto su parte cloud, ci promettono di andare anche su piccole e medie imprese, questo ovviamente in un range di tempo di un anno circa, però l'obiettivo è anche andare verso imprese di media grandezza.